Se sei amante del pesce arrosso, questa la devi vedere per forza. Andiamo a mettere un pottoglio in padella e la nostra ricciola. Allora, la facciamo cuocere tre minuti dalla parte della pelle e poi la giriamo per due minuti. Andiamo a girare, successivamente la rigiriamo, sennò si brucia sopra. Allora, iniziamo ad impiattare. Questo è il nostro peso e lo mettiamo così. È quasi pronta. Andiamo all'impiattamento. Un pottoglio, un po' di sale maldon. Successivamente il nostro, ogni porno di conflitto, il nostro parrocritto croccante. E tu come la preferisci la ricciola? Bruta o arrosso? Fammelo sapere nei commenti.